Signori She Devil, è il diavolo. Commedia con Mary Streep dell'89, voto 7 e mezzo. Non è che sia bellissima come commedia, ma non è neanche brutta. Alla fine è sull'originale andante. Anzi, se volete sapere come si fa a far saltare in aria una casa, va bene. Battutaccia. Il film è carino, lo trovate su Sky o su Nao. Vabbè, è il solito DVD o Blu-ray di cui vi lascerò il link. Un saluto a tutti, se volete iscrivetevi al canale e se volete lasciate un like. Ciao ciao.